Immigrazione e Prevedenza, per cosa parla questo congresso di preciso? Siamo felici oggi di essere qua, cerchiamo di dare un contributo al nostro territorio parlando di immigrazione, un fenomeno che chiaramente va in qualche modo preso un po' per le corna, se così si può dire questo fenomeno, per quale motivo? Perché effettivamente gli sbarchi che abbiamo negli ultimi periodi stanno chiaramente superando percentuali importanti e non si può continuare a portare avanti questo tipo di realtà, non abbiamo soluzioni in tasca. La Confederazione oggi CIFA prende un po' per mano quelle che sono le attività del governo italiano dicendo che cosa? Portiamo avanti una contrattazione collettiva nazionale, abbiamo all'interno dei fondi di formazione professionale, utilizziamo proficuamente i fondi Fonarcom in questo caso per stabilire una connessione con gli altri fondi a livello internazionale, con i fondi migratori, per cercare di creare un asilo differente con i decreto flussi del governo e utilizzando lo stesso decreto flussi per aumentare le percentuali di ingresso nel territorio nazionale utilizzando le competenze. Quando l'immigrato arriva da noi, prima ancora di arrivare deve avere già un inserimento proficuo all'interno del nostro territorio con un programma ben stabilito di attività lavorativa e da svolgere. Ecco, solo in questo modo possiamo programmare proficuamente una migliore identità, una migliore crescita del nostro territorio utilizzando le capacità e le competenze dei paesi extracomunitari. Ecco, oggi noi siamo qui per questo, per abbracciare l'immigrazione, per dire sì, va bene, l'immigrato arriva, non deve arrivare, non deve essere un profugo, ma deve arrivare con delle competenze già prestabilite da questa nostra previsione di attività. Grazie. E secondo il vostro esame questo divinerà l'immigrazione invece in clandestina? Ma in qualche modo non possiamo limitare i profughi a arrivare da nostre parti, ma c'è un motivo perché questa gente arriva. Allora capiamo perché questa gente vuole arrivare dalle nostre parti, qual è il motivo? Sicuramente perché cercano un nuovo inizio. E allora vediamo se magari il sistema Italia e l'Europa riesce a dare questa opportunità utilizzando i nostri fondi interprofessionali, cercando le competenze e portarle qui da noi. Sicuramente nell'agricoltura, ma nelle industrie metalmeccaniche, nel terziario, nelle collaborazioni familiari. Quanta gente arriva da noi per cercare, ripeto, una nuova luce, una nuova terra da coltivare. Diamo questa opportunità. Professor Tito Boeri, Immigrazione e Previdenza. Lei ha presentato anche una proposta, una riforma a costo zero, per quanto riguarda l'immigrazione. Di cosa si tratta? E come risolvere alcune questioni che sono sempre tremendamente attuali? Guardi, Mazzara del Valle è una realtà davvero avanzata in quanto integrazione degli immigrati. Quindi sono molto lieto di essere qui oggi a parlare dei temi dell'immigrazione. Se ne parla troppo spesso in modo ideologico e alimentando il terrore dei cittadini italiani, in modo assolutamente non giustificato, perché i dati che mostrerò documentano come non c'è da temere gli immigrati nel rischio di perdere il lavoro, non c'è da temerli sul piano delle entrate fiscali, al contrario gli immigrati contribuiscono a finanziare il nostro sistema di protezione sociale a partire dalla Previdenza. Non c'è da temere gli immigrati sul piano della criminalità, quando le province italiane con più immigrati sono quelle con il più basso tasso di criminalità, e invece bisogna lavorare molto perché si integrino maggiormente nel nostro tessuto sociale. Noi abbiamo continuato ad attuare delle politiche di chiusura nei loro confronti, delle politiche emergenziali, non abbiamo mai investito sull'integrazione e questo oggi ci crea non pochi problemi nella gestione del fenomeno. Io credo che si debba invece agire in questo senso, ci sono anche delle importanti aperture a livello europeo, con l'utilizzo per esempio della Temporary Protection Directive nel caso dei profughi dell'Ucraina, ecco quello è un esempio che noi dobbiamo cercare di utilizzare anche in futuro per essere persone che sfuggono da teatri di guerra. Siamo con l'assessore del comune di Mazzara del Vallo, Gianfranco Casale, oggi un tema molto interessante, immigrazione e previdenza, proprio in una città dove Mazzara del Vallo presenta una multiculturalità che è una ricchezza, ovviamente bisogna anche trasformarla in opportunità. Assolutamente sì, sappiamo che ormai siamo arrivati alla terza o quarta generazione di lavoratori provenienti dalle migrazioni degli anni Ottanta, per cui affrontare oggi il tema della previdenza significa anche guardare a quelle che sono le problematiche impellenti per i nostri lavoratori del mare soprattutto quelli di origine tunisina. Quindi un grande applauso al CIFA Trapani che ha organizzato proprio a Mazzara questo evento, questo convegno e speriamo che all'interno del dibattito possano emergere non soltanto i nodi ma anche quelle che sono le soluzioni per i tanti problemi che sicuramente emergeranno per i tanti lavoratori del mare di origine italiana o di origine tunisina anche se a me questa differenza piace poco e che domani dovranno prepararsi ad affrontare il tema della loro pensione, del loro fine lavoro. Quindi un grazie, noi abbiamo messo a disposizione i locali del nostro Civic che sono in questo momento piene di professionisti che hanno desiderio di potersi aggiornare e potersi documentare sul tema. Ingegnere Vincenzo Montalbano Caracci, Immigrazione e Previdenza voi come Rotary Club avete appoggiato questa iniziativa di CIFA Trapani un'iniziativa molto interessante, il professore Boeri relazionerà su un tema su una proposta di riforma a costo zero ecco quanto è importante soprattutto in una città di Mazzara del Vallo che presenta una multiculturalità. Credo che sia un tema comunque che fa parte del modo di essere del Rotary e quindi era necessario, fra virgolette, partecipare partecipare per comprendere soprattutto non è il momento delle proposte rotariane le proposte le facciamo ogni giorno, 365 giorni all'anno lavorando nei territori, peraltro nei territori da cui parte l'immigrazione siamo presenti in 164 paesi, credo che siamo un elemento di unione di per sé peraltro siamo reduci dalla giornata di ieri in cui si è celebrata per la ottava volta l'invocazione rotariana alla pace in cui si vedono assieme, si parlano e si discute assieme con i rappresentanti delle religioni, delle monoteiste del Mediterraneo è un elemento di unione e uno dei tanti elementi su cui il Rotary si muove.